Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo piccolo tutorial ti spiego come risolvere il problema riguardo alla connessione su Fortnite che non riesci a connetterti a qualche serve oppure a qualche partito oppure quando vai ad avviare Fortnite ti esce proprio questo errore, questo qua, dalla connessione fallita, quindi non puoi neanche connetterti ai serve. Quindi in questo caso andremo a risolvere in tanti metodi, ovviamente come primo metodo andremo un attimo su un documento di testo qualsiasi, quindi prendete un documento di testo qualsiasi, potete anche cliccarci sul desktop e fare un nuovo documento di testo. Io vado su questo documento e ovviamente vado su apri, poi vado su questo pc, disco locale C, scendo fino a giù fino a trovare la cartella Windows, andiamo nella cartella Sysstem32 per quelli che hanno un sistema operativo a 32 bit, invece per quelli che hanno un sistema a 64 bit vanno qua sopra. Io vado un attimo qua dentro, vado a trovare così la cartella Drivers, vado nella cartella ETC, documenti di testo ovviamente non c'è nessun file, quindi andiamo su tutti i file ed eccola qua. E ora andiamo in questa cartella, in questo documento e ovviamente troverai tutte queste scritte qua dentro, tutto devi solamente cancellarle. Elimini tutto questo testo, vai su file e salvi il documento. Quindi ovviamente vanno cancellate tutte quelle scritte nel documento di testo e poi una volta fatto, se vai di nuovo nel suo documento non troverai più quelle scritte, non le troverai più una volta avviato Fortnite. Poi per risolvere Fortnite possiamo sempre andare sulla libreria di Epic Games, andare direttamente su Fortnite, sui tre puntini, vai su gestisci e qui c'è la verifica dei file e fai la verifica. Aspetti un bel po', se non dovesse funzionare, disinstalla il gioco, reinstalla il gioco, fai la verifica di nuovo, fai di nuovo quel metodo che ti ho fatto vedere nel documento di testo e poi riavvia direttamente il tuo PC. Se non dovesse funzionare neanche questo, andiamo un attimo sui tre puntini, andiamo su gestisci, poi andiamo sulla cartella e andiamo su se trovo Fortnite game, binaris, win64, scendiamo fino a giù, fino a trovare la cartella di Fortnite launcher, l'applicazione Fortnite launcher, proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo interi, eseguo il programma come amministratore, firme digitali, andiamo a vedere se c'è qualche firma digitale da fare, dettagli, visualizza certificato, installiamo così il certificato utente corrente, facciamo avanti, seleziona automaticamente l'archivio certificato, secondo il tipo di certificato, facciamo avanti, fine. Importazione completata e facciamo ok. Se non dovesse funzionare neanche con questo metodo, commenta sotto al video. Ragazzi, iscrivetevi, lasciate like se questo video ti è stato utilissimo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.